68 aziende su 83 irregolari tra Piceno e Fermano. Sono questi alcuni dei numeri analizzati dagli ispettori Nail dopo specifici controlli effettuati negli ultimi nove mesi del 2014. I dati sono dell'anno passato ma sono gli ultimi utili per capire lo stato delle aziende delle province di Ascoli e Fermo dal punto di vista della sicurezza e della regolarità dei dipendenti sul lavoro. Su oltre 80 aziende controllate nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 dicembre dello scorso anno alla stragrande maggioranza sono state riscontrate delle irregolarità. Nella provincia di Ascoli Piceno sono state 42 le aziende ispezionate, 33 quelle irregolari. In proporzione numeri pressoché identici per il Fermano dove le imprese non in regola sono state 35 su un campione di 41 ma nel Piceno cresce il numero di lavoratori in nero, ben 23 sui 27 trovati, mentre nel Fermano sono solo 4. Analizzate complessivamente le posizioni di 205 lavoratori, di cui soltanto 102 sono risultati essere completamente regolarizzati. In pratica un lavoratore su due non è in regola. Numeri davvero preoccupanti per il sud delle Marche. Attraverso questi controlli mirati l'INAIL è anche riuscita a recuperare più di mezzo milione di euro, esattamente 524.000 nella provincia di Ascoli e poco meno di 30.000 in quella di Fermo, territorio che si dimostra più attento alla contrattualizzazione nonostante la frammentazione in piccole e medie imprese che agevolano l'assenza di contratto.